Ma quella porcata Barbara che sta facendo il sindaco di Tecate, che ha fatto un'ordinanza anti-ebola per tenere in sicurezza i cittadini tecatesi come se quello sono il problema. Quando cadono le scuole, quando si notano le strade, quando i sindaci fanno i soldi alle aziende come la natura.com di Volgare per poi chiudere, questi amministratori sono da cazzare via. Ma quanti immigrati hanno Italia-ebola? Nessuno! A Volgare l'ordinanza di 500 euro il sindaco ha messo, sindaco leghista, per l'idoneità allogiativa, per un pezzo di carta che devono chiedere solo gli immigrati, perché solo gli immigrati devono portare anche quando devono andare a lavorare e dire se abitano in un monolocale o in una sfida all'ultimo piano. Gli italiani e altri no, sono dei documenti che servono solo per metterci l'unico contro gli altri. Portare a 500 euro un pezzo di carta vuol dire attaccare e discriminare gli immigrati. amici allora vuole sentire la loro voce? Basta racismo! 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 Grazie a tutti